Sappiamo tutti cosa è stato presentato l'8 novembre, dai su, non dite che non lo sapete perché è quasi impossibile vista la quantità di recensioni che sono sparse per tutta la rete, soprattutto su YouTube, su Instagram, anche su TikTok ho visto qualche cosa, ne hanno parlato anche i giornali e i notiziari TV. Vabbè, Apple o Apple, come lo volete chiamarla, ha presentato i nuovi MacBook Pro con i nuovi estrabiglianti chip della serie M1. In questo caso sono stati nominati come M1 Pro e M1 Max che seguono bene o male il fil rouge che sono stati dati alle denominazioni degli iPhone. Vorrei dirvi la mia, probabilmente non ve ne frega una chip a lippa, ma neanche a me, e allora non indugiamo. Sigla! Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, designatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il Tiraline. Partiamo dal fatto che in questo episodio non sarò certo io a farvi un lungo elenco di come sono stati fatti, di come sono stati costruiti questa nuova linea di chip M1 di Apple. Soprattutto perché sono stati altre persone molto più brave di me a farne una buona recensione e un'ottima descrizione. Il primo che mi viene in mente è sicuramente Roberto Marine di Snapper Architettura Imperfetta che essendo un architetto e utilizza il Mac per lavoro ne ha parlato prima sul suo podcast e poi anche insieme a Filippo Strozzi su A2 Podcast dove ne hanno sviscerato anche un po' le caratteristiche abbinate agli usi più quotidiani che non quelli diretti verso la grafica pura. Se non li ascoltate fiondatevi subito a farlo, lascio il link in descrizione. Oltre a loro potete anche trovare tutta una serie di altri canali come Easy Apple o anche su Saggiamente. Senza contare che tutti i vari youtuber come Otto Klinman o Agostini o Andrea Galeazzi ne hanno ben descritto le funzionalità e le caratteristiche. Se invece vi piacciono i dati e i confronti allora vi consiglio il canale YouTube di MaxTech che metterò il link in descrizione dove lì veramente si possono notare le varie differenze tra un M1 e un portatile da gaming e fare un vero raffronto anche sulla grafica. Chi vi parla invece proverà invece a toccare qualche punto che magari è più interessante nel nostro specifico settore, quello del CAD e di come questi chip M1 potrebbero impattare sulla nostra professione di tiraline. Tra le varie articoli che ho letto c'è stata un'analisi approfondita sui chip M1 Pro e M1 Max e mostra come questi nuovi modelli di MacBook Pro siano in grado di surclassare il laptop di Windows ma anche di competere con i migliori PC desktop, cosa che non era nemmeno considerata per un chip su un portatile. A rendere ancora più notevole il fatto che i core della CPU sono gli stessi che si trovano nel chip M1, quello che è uscito nel 2020, ma a migliorare è tutto il resto e tuttavia ciò non significa che l'unica differenza sia nel numero dei core presenti. I core della CPU hanno un clock fino a 3228 MHz, tuttavia la frequenza varia a seconda di quanti core sono attivi all'interno di un cluster, con un clock che arriva fino a 3132 MHz con due core attivi e 3036 MHz con tre o quattro core attivi. Gli 8 core ad alte prestazioni dell'M1 Pro e dell'M1 Max sono effettivamente costituiti da due cluster a 4 core, entrambi con le proprie cache L2 da 12 MB e ciascuno in grado di eseguire il clock delle proprie CPU indipendentemente l'uno dall'altro. Quindi è effettivamente possibile avere quattro core attivi a 3036 MHz in un cluster e un core attivo a 3,23 GHz nell'altro cluster in esecuzione. Quindi una grande caratteristica di entrambi chip è l'aumento della velocità della larghezza di banda e delle interfacce di memoria. L'M1 Pro dispone di memorie LPDDR5 a 256 bit, spero di averla letta giusta, a velocità di 6400 MTS corrispondenti a una larghezza di banda di 204 GB al secondo. Questo dato è significamente maggiore rispetto all'M1 precedente che è solo di 68 GB al secondo e che in generale è più alto di tutte le piattaforme laptop della concorrenza, che si basano ancora su un'interfaccia a 128 bit. Per quanto riguarda le capacità grafiche invece, che è quelle che riguardano soprattutto noi tiralinie, ci sono le maggiori differenze tra M1 Pro e M1 Max. Il chip M1 ha 8 core GPU, che arriva a 16 core su M1 Pro e addirittura a 32 core su M1 Max. La GPU e l'interfaccia di memoria del chip sono di gran lunga gli aspetti che maggiormente differenzia i chip quello Pro e quello Max. Ovviamente ha vantaggio sicuramente dell'ultimo, dove la GPU funziona fino a 1296 MHz. Apple ha poi raddoppiato anche le interfacce di memoria, utilizzando un enorme sottinsieme di memorie DDR5 da 512 bit. Qualcosa di impensabile in un SOC e persino raro in alcune GPU dedicate. Ciò conferisce da questi chip un'enorme larghezza di banda, quasi 400 GB al secondo. Il risultato è qualcosa di veramente incredibile. Per quello tutta la gente è veramente meravigliata di queste prestazioni. I chip M1 Pro e M1 Max raggiungono prestazioni che semplicemente non erano considerabili e possibili per un chip per laptop. Questi chip non sono solo in grado di surclassare qualsiasi chip di un portatile Windows concorrente, ma competono anche con certi migliori desktop. Per superare le prestazioni del chip M1 Max è necessario un hardware di classe server. Quindi parliamo di Xeon, di Intel Xeon. Tutto questo rende i nuovi MacBook praticamente i migliori laptop in commercio. Ma a noi tiraline, che cosa viene in tasca? Al momento quasi nulla, perché purtroppo, come poi nel proseguire dell'episodio, gli software CAD in questo momento utilizzano ancora un core, quindi una CPU quando lavorano. Quindi gli 8 core, i 32 core, in questo momento pochi software CAD ne fanno utilizzo. Sicuramente questo numero di core può dare una mano all'interprete Rosetta 2 a far funzionare i programmi che in questo momento funzionano su OS X. E parliamo di AutoCAD, AutoCAD LT, Fusion 360, Archicad, che sono praticamente funzionare solo attraverso Rosetta 2. Sicuramente il maggior numero di core riesce a farle funzionare quasi a livello nativo. L'impatto sicuramente sarà notevole quello quando questi software potranno essere scritti nativamente per questi chip. Allora lì probabilmente vedremo una svolta veramente epocale anche sui software CAD. Se seguite Mark Gurman di Bloomberg sul suo blog avrete notato che tempo fa aveva scritto che i famosi M1X sarebbero arrivati in due versioni conosciute come Jade C-Shop e Jade C-Dye. E naturalmente ha avuto quasi ragione, infatti si sono confermati con i nomi M1 Pro e M1 Max. Sembra che ci sia una notevole linea di taglio nel chip M1 Max. Se questo chip esce così com'è dal wafer TCMC da 300 mm, non so se avete mai visto i wafer di Intel dove ci sono tutti i chip, lo stesso molto probabilmente avviene su quelli di Apple, spiegherebbe la versione Jade C-Dye del chip che aveva ipotizzato Gurman, che secondo lui sarebbe più potente del Jade C-Shop che in questo caso sarebbe l'M1 Pro. L'M1 Pro infatti è in realtà sembra una versione dell'M1 Max tagliata, lo vedete anche attraverso delle linee scure nella parte inferiore dell'immagine che vi lascerò in descrizione, vi lascerò un link. L'M1 Pro sembra anche semplicemente proprio l'M1 Max senza la parte sopra. In pratica da uno sguardo ravvicinato si può veramente vedere una perfetta simmetria sulle linee di taglio che viene mostrata nella seconda immagine che vi lascio il link, dove proprio vedete il taglio di questa CPU. Questa linea di taglio dimezza i possibili core GPU da 32 a 16 core. Entrambi i chip hanno gli stessi 10 core della CPU massimi, quindi voi direte ma perché? Sembra che Apple stia imbastendo una strategia che gli consenterebbe di passare in futuro con chip da 20 o 40 core sullo stesso wafer e quindi raddoppiare o quadruplicare il chip fino ad arrivare a versioni sempre più potente per il desktop. Ma voi direte ma a noi cosa interessa questa cosa? Niente, era solo una curiosità perché era tra le cose che mi sono risultate all'occhio quando ho rivisto il keynote di Apple. Una curiosità che poi mi ha fatto notare è che anche in questo campo, nel campo soprattutto dei chip, Apple mette sempre quella straordinaria attenzione nei particolari e nell'ottimizzazione dei suoi prodotti. Sicuramente quando uscirà questo episodio già ci saranno in giro molti video e molte recensioni sui MacBook Pro che sono usciti l'8 ottobre e sicuramente tutti gli appassionati Apple che erano in attesa di conoscere quali erano le prestazioni di questi MacBook già lo sapranno. Tuttavia i modelli di MacBook Pro con M1 Max da 16 pollici potrebbero godere di una feature unica perché l'attento Steve Moser di MacRumors ha scavato in fondo a MacOS Monterey, il nuovo sistema operativo che tra l'altro è uscito da poco tempo trovando tracce di una modalità chiamata Prestazioni Elevate e che è un'esclusiva del top di gamma. Questa modalità al contrario di quelle da basso consumo dovrebbe spremere al massimo le potenzialità del chip M1 Max per garantire le migliori prestazioni possibili. Una stringa di testo ritrovata nella beta recita Il tuo Mac ottimizzerà le prestazioni per supportare meglio le attività ad alta intensità ciò potrebbe causare un rumore più forte della ventola. E' ovviamente chiaro che questa modalità spingerà al massimo il chip M1 e quindi richiederà una maggiore potenza dissipante. Il tutto ovviamente comporterà un aumento della rombosità ma è bene precisare che tale modalità servirà probabilmente solo in pochi casi di lavoro estremamente pesanti. Come detto precedentemente i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici saranno ormai disponibili per tutti i clienti del mondo quindi saremo già bersagliati di varie attività sul come funziona questo, come funziona l'altro ma nell'attesa di che emergano poi tutti i test benchmark quello che attratto maggiormente la mia attenzione è stato quello eseguito con lo strumento di Affinity la famosa applicazione che è la concorrente diretta di Adobe Photoshop che mostra la GPU dell'M1 Max battere la AMD Radeon Pro V6000X per alcune attività allucinante. I test sono stati condotti da Andy Sommerfield, sviluppatore principale del popolare editor di immagini Affinity Photo in un thread su Twitter Sommerfield spiega in dettaglio come il team di Affinity ha ottimizzato il software per i chip Apple Silicon sin dalle prime versioni infatti anch'io ho avuto la mail che mi avvisava del fatto che Affinity, perché sono utilizzatore Affinity, fosse compatibile con l'M1 ma purtroppo l'M1 non ce l'ho e soprattutto anche dalla prima versione di Affinity Photo per iPad ricordiamo che l'iPad Pro ha il suo interno un M1 e fino a che punto sono poi arrivate le prestazioni di questi chip con l'ultimo MacBook Pro un singolo benchmark non indica sicuramente la potenza di una GPU ma Affinity ha sviluppato un proprio strumento per misurare le prestazioni relative alle sue app come Affinity Photo e Affinity Designer lo sviluppatore spiega che Affinity Photo funziona al meglio con una GPU con elevate prestazioni di calcolo ampia larghezza di banda su un chip e trasferimento veloce dentro e fuori dalla GPU la GPU più veloce che il team Affinity fino a questo momento abbia mai testato sul suo strumento di benchmark è stata la costosa AMD Radeon Pro V6900X che Apple vende come modulo per il Mac Pro al prezzo di 6.900 euro la Radeon Pro V6900X ricordiamolo ha 32 GB di memoria DDR6 e offre fino a 512 GB al secondo di larghezza di banda da memoria nonostante ciò è stata superata dalla GPU dell'M1 Max di Apple con 32 core e 400 GB al secondo di memoria a larghezza di banda unificata nel test raster a GPU singola la GPU di Apple ha segnato un punteggio di 32.891 mentre la GPU di AMD si è posizionata subito dietro con 32.580 punti ragazzi stiamo parlando di veramente una manciata di punti ma comunque la battuta ovviamente come spiega lo sviluppatore non significa che la GPU dell'M1 Max funzionerà meglio in ogni attività questo dato mostra sicuramente quanto siano performanti i chip Apple e che possono essere migliori per l'editing delle immagini rispetto a una GPU dedicata di fascia alta i test di Geekbench 5 hanno recentemente poi dimostrato che l'M1 Max offre una grafica fino a 181% più veloce rispetto alle GPU trovate nella precedente MacBook Pro da 16 pollici con il chip Intel ma noi ci domandiamo ma quali risultati potrà raggiungere la GPU di Apple dell'M1 Max per quanto riguarda i CAD? in questo momento pochi software possono utilizzare questa GPU ricordo che forse è solo Sharp 3D che potrebbe utilizzare che è compatibile nativamente con l'M1 però purtroppo gli altri anche lo stesso Fushio 360 che uso io l'utilizza Rosetta 2 quindi un simulatore chiamiamolo oppure un traduttore da Intel a M1 che però lo fa funzionare veramente bene ho visto in un video su YouTube un nostro collega americano che utilizza Fusion 360 tramite Rosetta su un M1 Pro è veramente notevole con una CPU che praticamente non fa andare la ventola e a differenza del mio Intel i7 che delle MacBook Pro del 2013 cui quando nonostante Fusion 360 sia nativo Intel dopo un po' di oggetti sul video e di file aperti comincia a sventolare come si dice notevolmente quindi la curiosità per noi tiraline è quando le varie case di software CAD decideranno di adeguarsi a questi nuovi tipi di chip che sono veramente fantastici secondo me si vedrà veramente un nuovo step nel disegno CAD e nella progettazione qualche giorno fa uno dei miei pochi clienti che utilizza un MacBook Pro del 2018 con una GPU esterna mi ha fatto questa domanda ma i Mac M1 supporteranno mai le eGPU? e io sono rimasto un po' in attesa di rispondergli perché ho detto visto che lui si era comprato una Blackmagic per lavorare con alcuni software CAD e devo dire la verità molto probabilmente non lo faranno mai perché questo? perché al momento le eGPU non supportano l'ultimo Apple Silicon l'M1 e naturalmente sono inclusi anche i nuovi chip gli M1 Pro e gli M1 Max per questo motivo molti utenti ancora rimangono fedeli agli Intel quindi molti professionisti che utilizzano i Mac con Intel rimarranno molto probabilmente ancora per qualche anno legati a questo tipo di macchine quindi alcuni software come Adobe Premiere che molto probabilmente non so, avevo letto qualche notizia che sta diventando nativo M1 oppure gli stessi Solidworks gli stessi Inventor di Autodesk KTA 3ds Max Studio o semplicemente anche per poter giocare con il proprio Mac queste persone non si aggiorneranno al Mac M1 il problema principale per i produttori di eGPU è che il chip Apple Silicon è un ecosistema molto chiuso credo che quando Apple abbia deciso di eliminare i chip Intel in favore di una propria produzione ne ha praticamente assunto il controllo quasi totale e quindi ha detto noi non li facciamo compatibili con in questo modo Apple sostiene giustamente nei suoi Keynote di poter realizzare Mac preparati alle esigenze anche di una realtà virtuale utilizzando il software di intelligenza artificiale che è presente soprattutto nel nuovo sistema operativo Monterey che utilizza le tecnologie di prossima generazione cerco di capire anche leggendo un po' in giro se ci sono poi le possibilità che una eGPU possa supportare i Mac M1 dal prossimo anno in poi e se sia poi veramente necessaria una eGPU per questi computer con M1 partiamo dal fatto che perché le eGPU non supportano i Mac M1 in teoria non c'è un vero e proprio motivo che non possono supportare questi chip i Mac M1 dispongono di connessioni Thunderbolt 3 che possono essere collegate a queste eGPU PCIe Fairfile Component Interconnect Express lunghissima mi sono anche impappinato avrò detto in inglese maccheronico ma perdonatemi ritorniamo a noi e queste connessioni è utilizzata su tutte le migliori GPU tra cui la famosa eGPU Blackmagic che è presente sullo store di Apple infatti se si collega un eGPU a un M1 Mac Mini o un MacBook Air o un MacBook Pro riconoscerà che è connessa a Mac OS 11 tuttavia anche se il Mac M1 riconosce l'eGPU non funziona non compare nella lista delle schede video presenti sul sistema il problema è che i driver per far funzionare le eGPU con il chip Apple Silicon M1 non esistono nel senso che non so molto probabilmente Apple non ne ha distribuito le capacità di produzione verso gli altri produttori mentre le eGPU funzionano con i chip Intel ampiamente utilizzati nei Mac costruiti prima della metà del 2021 il chip M1 è un'architettura completamente diversa e non ci sono driver che funzionano con loro non c'è assolutamente alcuna motivazione per Apple non sviluppare driver e GPU per il Mac M1 poiché si potrebbe evitare che il chip M1 offre prestazioni migliori di qualsiasi eGPU disponibile è questa la domanda più prontante quale domanda? certo ma hai veramente bisogno di una eGPU con un Mac M1 e innanzitutto è capire se c'è una differenza tra un chip del processore e una scheda grafica l'M1 è un chip del processore noto anche come CPU mentre le eGPU sono schede grafiche note come GPU i chip del processore del chip M1 elaborano i dati che ricevono mentre le schede grafiche sono responsabili dell'output grafico tuttavia i due lavorano di pari passo e più veloce ed efficiente è il processore nel fornire informazioni alla scheda grafica migliori naturalmente saranno i risultati in teoria i miglioramenti delle prestazioni notevolmente superiori apportati dal chip M1 rispetto ai chip Intel dovrebbero significare che la scheda grafica interna del Mac dovrebbe essere molto più efficiente e non avremo bisogno sicuramente di una eGPU per potenziare le capacità di gestione grafiche del tuo Mac naturalmente se utilizzi applicazioni di editing video come Final Cut su Mac M1 questa lo gestirà senza la necessità di una eGPU esterna questo naturalmente se ne parliamo con la M1 abbiamo visto anche che con un veramente piccolo Mac Mini con 8 giga di RAM fanno girare file di 4K 2, 3 canali insomma robe veramente allucinanti che prima serviva un i9 di decima generazione almeno per poterlo far girare naturalmente se questo succede con l'M1 figuriamoci cosa succede con l'M1 Pro e con l'M1 Max in effetti l'aggiunta di una eGPU probabilmente ridurrebbe le capacità prestazionali di un Mac M1 inserendo una graffa non integrata nella configurazione del suo SOC più hardware esterno aggiungi a qualsiasi configurazione più può diventare instabile e soggetto a crash poiché nulla batte sicuramente una configurazione hardware completamente unificata tuttavia se invece stiamo utilizzando un software di rendering 3D come Octane la richiesta di una grafica sono tali che avremo bisogno di una GPU per fornire quella spinta che molto probabilmente il Mac con l'M1 avrebbe bisogno per eseguire questi programmi tuttavia una precauzione più legittima è la compatibilità del software come abbiamo ripetuto precedentemente molti grandi pacchetti software come AutoCAD come con i suoi prodotti AutoCAD stesso Inventor 3DS Max Studio e altri programmi e altri programmi come l'Unreal Engine non sono molto probabilmente completamente compatibili con M1 o hanno bisogno di utilizzare Rosetta 2 per poter funzionare inoltre sappiamo benissimo vabbè che il Mac non è mai stato un computer adatto al gaming ma con l'avvento di Intel alcuni si sono spinti a giocare tramite magari con il bootcamp quindi attivare il bootcamp scusate e giocare su Windows con un Mac naturalmente in questo momento l'M1 non è compatibile con Windows la stessa Microsoft non ha ancora sviluppato completamente il suo sistema operativo Windows per i chip ARM e questo leva completamente la possibilità di fare il boot su un sistema operativo diverso da OSX mi sono interessato e ho trovato che l'azienda Parallels di cui consiglio avere una licenza perché è ottima soprattutto su Mac sia per far andare Windows ma anche se si vuole sperimentare utilizzare altri siti operativi come Linux in fretta e furia si è messa al lavoro e ha tirato fuori una versione che funziona con M1 ed esegue Windows su Apple Silicon anche se ho notato che non è completamente ottimizzata e determinate volte l'ho vista arrancare soprattutto quando si spinge parecchio con software come Solidworks ho visto e come Inventor non parliamo poi di Solidworks che è sempre stato un software che utilizza un determinato numero di schede grafiche e di cui lui ne sviluppa praticamente la Solidworks scusate sviluppa sempre dei driver adatti al loro software che bisogna utilizzare e tutte le volte dice di non utilizzare quelli nativi di Nvidia o di AMD quindi il consiglio del sottoscritto è che dipende da cosa utilizzerai sul tuo Mac quando deciderai di passare all'M1 se il software di cui ti affidi per guadagnare è compatibile con M1 allora salta sul treno e buttati se invece purtroppo i tuoi software sono ancora legati al chip Intel e soprattutto utilizzi molto spesso il bootcamp per software come Solidworks ad esempio o se è un giocatore incallito no questo è il momento ancora magari di rimanere su Intel e molto probabilmente di cercare qualche buona occasione perché in questo momento molti utilizzatori di MacBook Pro con Intel magari anche con gli ultimi i9 gli ultimi 16 pollici prima dell'M1 stanno vendendo i loro usati e si potrebbero trovare molte molte buone occasioni Apple ha rilasciato questi nuovi questi nuovi chip e molto probabilmente nel 2022 quindi come abbiamo visto l'anno scorso rilancerà nuovi chip con delle con dei core ancora maggiori delle prestazioni maggiori è probabile che a sorpresa potrebbero arrivare anche delle compatibilità con le GPU quale sarà il futuro delle GPU per il momento resisteranno ancora perché come ho detto prima alcuni professionisti ancora fondono il loro business su programmi che utilizzano chip Intel e soprattutto sono software che hanno bisogno di grande potenza di calcolo in alcuni casi i giorni possono essere contati per le GPU ma al momento ci sono sicuramente ancora alcune applicazioni che richiedono il loro potenziamento grafico che solo le eGPU possono fornire e dopo le GPU diciamoci quale altra domanda nasce spontanea a un ragazzo magari una volta un ragazzo a un disegnatore CAD come il sottoscritto quale comprare di questi fantastici M1 Pro e M1 Max Apple naturalmente ha rivelato 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 in questi nuovi chip e la butto lì a grandi linee cerco di esaminare bene o male che differenza c'è tra M1 Pro e M1 Max il chip M1 quello uscito nel 2020 era veramente uno uno spartiacque che delineava proprio la nascita di un nuovo modo di progettare chip per computer e quindi faceva in modo che Apple si staccasse completamente da Intel e allineava praticamente i Mac alla stessa tecnologia utilizzata per i dispositivi iOS come iPad e iPhone questo alla fine renderà come le funzioni di intelligenza artificiale o la virtual reality su Mac sempre più possibili nell'attuazione e nell'utilizzo quotidiano di questi computer che non possono essere utilizzati con i vecchi chip Intel questa nuova generazione di chip M1 segna un altro passo in avanti nelle prestazioni e anche di particolare interesse per coloro che utilizzano software CAD sul proprio Mac i chip M1 Pro e M1 Max sono i successori dell'incredibile e potente chip M1 che è stato presentato l'anno scorso i chip M1 Pro e M1 Max sono disponibili soprattutto sui nuovi laptop MacBook Pro da 14 pollici e MacBook MacBook Pro da 16 pollici entrambi i modelli includono questo chip e si possono naturalmente notare veramente l'incredibile incremento di prestazioni si aggirano all'incirca guardando le varie recensioni su internet fino al 70% più veloci rispetto al chip M1 non ne parliamo in confronto a Intel e sono almeno due volte più veloci nella gestione della grafica questo è un miglioramento sorprendente considerando che il chip M1 originale ha spazzato letteralmente via tutti i chip Intel quando è entrato sul mercato i costi dei vari dei due M1 Pro e M1 Max che sono sul 14 e sul 16 pollici partiamo dal MacBook Pro da 14 pollici che consideriamolo di base ho fatto le virgolette in aria che è il più economico quello con il chip M1 Pro e costa circa sui 2000 euro se si aggiunge un chip M1 Max che arriva circa sui 900 euro in più per un totale di 2800 3000 euro il modello invece da quello da 16 pollici con il chip M1 Pro costa sui 2500 euro se si vuole passare poi a un chip M1 Max costa circa 600 euro in più per un totale di 3000 3500 non mi ricordo bene entrambi sono disponibili sia nei colori soliti in argento e grigio siderale e hanno questi display liquida retina XDR che a detta di alcuni sono veramente allucinanti rendono veramente la grafica e la profondità dei neri è veramente eccezionale la differenza principale tra i due chip tra l'M1 Pro e l'M1 Max è che l'M1 Max offre più transistor il doppio della RAM e il doppio della ragazza di banda della memoria tuttavia si può aggiungere più core a ciascuno chip per fornire ancora più potenza rispetto al chip M1 di base una configurazione al massimo del chip M1 Max offre prestazioni quasi 4 volte più veloci del primo M1 questo giustamente lo rende veramente una proposta allettante per videomaker graphic design e CAD designer diamo un occhio veloce alle prestazioni proprio del chip M1 Pro allora il chip M1 Pro ha 10 core della CPU può essere personalizzato fino a 16 il numero dei transistor si aggira circa sui 33,7 bilioni può arrivare fino a 32 gigabyte di RAM e ha una larghezza di banda di memoria intorno ai 200 gigabyte al secondo può sostenere 20 flussi a 4K Pro Res naturalmente ha il neural engine interno e può sostenere delle Thunderbolt 4 ed è costruito con un processo a 5 nanometri le prestazioni invece del chip M1 Max sono le seguenti sempre come l'M1 Pro ha 10 core della CPU e però in questo caso può essere personalizzato fino a 32 core il numero di transistor sale notevolmente arriviamo a 57 bilioni può essere fornito con 64 gigabyte di ram e ha una larghezza di banda intorno ai 400 gigabyte al secondo questo chip può sostenere 7 flussi di 8k pro res la costruzione sempre a 5 nanometri è veramente 7 flussi 8k è una cosa incredibile ma quale acquistare dei due soprattutto per chi progetta fa della progettazione grafica o del CAD designer sia il chip M1 Pro che M1 Max hanno motori multimediali dedicati di decodifica e codifica per accelerare il processo di rendering video incredibilmente intenso per una cpu l'M1 Pro ha un motore di decodifica e codifica ma M1 Max ha due motori di codifica per una codifica molto più rapida ha anche i cosiddetti due acceleratori prores che forniscono prestazioni aggiuntive per i video 4k e 8k Apple afferma che significa che un chip M1 Pro può gestire fino a 40 flussi di video 4k l'ho detto precedentemente prores mentre l'M1 Max ne può gestire 7 flussi ma a 8k infine se si è un videomaker a cui piace utilizzare più monitor l'M1 Max può gestire 4 display esterni mentre il chip M1 Pro ne può gestire solo 2 tuttavia come molti utenti chip M1 hanno potuto constatare ci sono altri modi per collegare più monitor al Mac M1 e probabilmente lo sarà anche con il chip M1 Pro l'aspetto più entusiasmante dei nuovi chip M1 Pro e M1 Max sono le prestazioni ancora più veloci già rispetto al precedente M1 praticamente senza sviluppare calore o rumore visto che il M1 Max ha delle ventole anche il Pro ma veramente dai test che si vedono su YouTube il chip scalda pochissimo e le ventole intervengono raramente se non in alcuni casi di carichi elevatissimi e questo li rende delle workstation veramente silenziose per il video editing purtroppo per mio dispiacere questi due chip non sono disponibili per il Mac Mini molto probabilmente sarà solo una questione di tempo è probabile che il prossimo anno con la nuova nuova linea di Mac Mini è probabile che o gli M1 Pro e M1 Max finiscono sul Mac Mini e i MacBook Pro ottengono delle nuove dei nuovi dei nuovi chip o molto probabilmente faranno dei chip dedicati a questo tipo di macchine sono buoni per giocare direi che come ho detto prima è poco probabile in questo momento non ci sono giochi sviluppati nativamente per gli M1 a parte quei giochi che adesso con Monterey si possono eseguire i giochi quelli di intendo quelli di iOS è probabile che questi giochi possono funzionare sull'M1 dato che possono funzionare anche su un iPad Pro che ha un M1 tuttavia per utilizzare i giochi dobbiamo utilizzare Windows ancora soprattutto per giochi pesanti come Battlefield o lo stesso Fortnite quindi dato che come abbiamo detto visto prima virtualizzare Windows su Mac M1 è ancora non proprio ottimo a livello di prestazioni e purtroppo non si può fare il bootcamp e quindi direi che dobbiamo aspettare i giocatori di gaming devono aspettare che le software house magari producano dei titoli adatti a questi chip e parliamo di Intel allora ha fatto sorridere in questo tempo fa la notizia che il CEO di Intel abbia chiesto ai vari utenti di andare a comprare i loro prodotti di non abbandonarli anzi di chiedere cosa cosa potevano fare loro insomma mi è sembrato un po' come correre a chiudere il recinto quando sono scappati i buoi nonostante i benchmark ormai rendono chiaro l'ampio vantaggio che i processori Apple Silicon hanno rispetto a quelli di Intel nonostante questo due nomi di alto profilo come l'ex capo del reparto Mac Jean-Louis Gasset e l'ex presidente di Windows Steven Sinoposki affermano che le differenze sottili sono solo temporali non sono proprio d'accordo perché dalle prestazioni che si vedono dai vari beta tester o dai tester a cui sono stati dati i MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici per poterne fare le recensioni la distanza dagli Intel è veramente abissale nonostante questo Jean-Louis Gasset che ha sostituito Steve Jobs come capo del team Mac in Tosce e che tra l'altro è stato anche molto vicino a diventare CEO dell'azienda ha prima criticato i confronti tra i chip Apple Silicon e quelli pensati per computer desktop visto che Apple sta lavorando questa è una notizia a meno leggendo da questo articolo ha un chip desktop molto più veloce per il prossimo Mac Pro e direi anche che sarebbe ora perché dato che ho visto delle recensioni in cui un MacBook Pro 16 pollici ne dà di santa ragione a un Mac Pro che costa ben 15.000 euro e quindi ne vedrei che Apple ha ragion veduta produce un chip desktop adatto agli professionisti Gasset dice che Intel non è ancora riuscito ad integrare tutto in un singolo chip come ha fatto Apple di conseguenza le prestazioni quelli che vengono chiamate le prestazioni SIP ne risentono a causa della velocità di interconnessione inferiore in particolare se confrontati con un SOC completamente integrato ad esempio il trasferimento di memoria offerto da M1 Pro e M1 Max raggiunge i 200 e i 400 gigabit al secondo velocità irraggiungibili su un'implementazione delle CPU Intel mentre Sifosky che ha guidato Microsoft durante il passaggio tra Windows Vista e Windows 7 descrive che il MacBook Pro M1 è come un'innovazione strabiliante che riprende la storia di Apple quando con i chip del PowerPC perché si ricorda e ha un po' il cappello bianco come sottoscritto naturalmente ricorda il passaggio di Apple dai famosi PowerPC di Motorola a quelli di Intel nonostante tutto questi due personaggi dicono che questo vantaggio sia recuperabile in poco tempo il mio personale piccolo parere di utilizzatore di computer non pensa in questa maniera perché sono stati presentati i nuovi le nuove CPU Intel di dodicesima generazione e signori miei sono delle macchine succhia energia praticamente ci vogliono solamente per alimentare solo la CPU 250 Watt quindi ragazzi dovremmo mettere degli alimentatori veramente allucinanti e sono nonostante le prestazioni siano molto vicine agli M1 ma in compenso hanno degli aumenti di calore e di consumi di Watt 10 volte superiori a quelli degli Apple M1 quindi voi cosa ne pensate riuscirà Intel a recuperare su Apple e AMD starà a guardare diciamo che abbiamo corso un po' perché la chiusura di questo episodio sarà un po' lunga perché 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 purtroppo o no è stato naturale prima di chiudere questo episodio ho ascoltato molto e ho visto troppo su questo argomento e le mie idee le mie convinzioni sono molto cambiate su questo argomento nessuno oggi non può negare che questi nuovi chip e chiamarli chip secondo me è riduttivo non abbiamo non abbiano scatenato una rivoluzione hardware che non vedevo da tempo lo si nota per come le aziende AMD e soprattutto Intel stiano cercando di minimizzare che cosa sono gli M1 e che cosa sono in grado di fare con poca energia cosa che è assolutamente incredibile sono un Mac come diavolo si dice un Mac Evangelist ma al momento e questa volta uso la parola purtroppo in modo negativo tutto questo ben di Dio non fa per il lavoro da tiraline molti dei software se non la maggioranza che noi tiraline usiamo oggi sono ancora ancorati al mondo Intel AMD in pratica ai PC ai PC Windows per intenderci personalmente non ho ancora potuto e non ho ancora avuto il piacere di vedere e di toccare personalmente un Mac Mini o un MacBook Pro con il processore M1 di testarlo e di percepire quella potenza con cui internet è pieno di video e di recensioni e anche di testarlo con i software di cui uso tutti i giorni calcisticamente parlando sono come quei tifosi che rimangono con l'urlo del gol in gola perché il centro avanti della propria squadra ha preso un palo pieno questa meraviglia hardware rimane poco accessibile all'ambiente CAD a quello il CAD mainstream intendiamoci tipo SOLIDWORKS Inventor 3D Max Studio KTA allora non è che non ci sono software CAD ci sono alcuni già compatibili non sono quelli più conosciuti vedi come Sharp 3D che è quello che conosco di più perché ho provato a usarlo sia su Mac e anche su iPad dobbiamo però essere consci del fatto che senza uno sviluppo nativo dei software CAD per questa famiglia di chip dovremmo affidarci a un traduttore come Rosetta 2 che per quanto bene sia stato sviluppato da mamma Apple non può certo competere con del codice scritto apposta per quell'hardware il mio MacBook Pro del 2013 con un i7 a bordo ancora mi supporta bene facendo girare molti software CAD tipo AutoCAD LT Fusion 360 quelli che funzionano attivamente su OSX mentre SOLIDWORKS e Inventor li uso tramite il Dualboot su Windows 10 la scheda la scheda dedicata la scheda video è una GT 650 con un solo gigabyte di RAM e su assiemi corposi comincia a dare il fianco a quei rallentamenti fastidiosi che tanto danno fastidio durante il lavoro per noi tiraline al momento è quello che passa il convento ma spero di poter immaginare di possedere una bella macchina Apple M1 tra qualche mese lavoro per intenderci come freelance dal 2011 con le macchine Apple quindi sulla mia schivania poi sono passati anche l'iMac Tangerine quello a bolla per intenderci del 99 1999 passando per un iMac 20 pollici il primo di quelli con il processore Intel e fino ad oggi dove il MacBook Pro del 2013 con i 7 lavora egregiamente e devo dire la verità io con questa macchina ho una specie di simbiosi nel senso che la macchina è praticamente un'estensione di me stesso il lavoro e comunico con questo computer a volte mi ci ritrovo quasi a parlarci quando magari qualcosa non funziona o dovrei pensare di fare un determinato lavoro molte volte mia moglie mi coglie sul fatto e mi dice ma con chi stai parlando provo a rispondere sfarfugliando qualche cosa ma lei alza le spallucce prendendomi per un mezzo folle attenzione spoiler quello che sto dicendo Alex Arcuglia l'ha già raccontato in Tecnopilze e vi lascio il link dell'episodio e mi ha frega sul tempo ma non per colpa sua ma è io che sono lento a registrare e a editare un episodio ma passiamo a noi il prossimo step che farò sicuramente sarà una macchina M1 la mia idea è quella di passare a un Mac Mini M1 perché ormai il mio lavoro non mi porta più in mobilità e quindi il MacBook sarebbe veramente una macchina sprecata però non vorrei negarmi nemmeno la possibilità di poter portare fuori ufficio il mio lavoro per mostrarlo ai clienti o per convenire in presenza ad eventuali modifiche sulla commessa sul disegno sulla tavola questo lo volevo farlo però con un iPad Pro che potrei utilizzare con le applicazioni web di Autodesk in primis oppure provare veramente se si possa progettare direttamente in mobilità con software tipo Sharp 3D e Fusion 360 queste sono le soluzioni che ho valutato per una serie di motivi partendo sicuramente soprattutto dal cospicuo esborso economico che porterebbe l'acquisto di un MacBook Pro M1 Pro o M1 Max è vero ci sono molte modalità di acquisto di un Mac sempre raccuglia docet con i suoi soliti 176 euro al mese ma devo anche valutare l'uso che ne faccio domandarmi soprattutto anche da professionista quanto tempo rimango fermo in ufficio quanto mi muovo quanto ho bisogno veramente di lavorare in mobilità perché uno dei miei cruci è sicuramente la batteria che l'odierno MacBook Pro in mio possesso ho dovuto già sostituire dato che OSX mi dava un errore e la richiesta di sostituzione perché mi è costato un bel po' mi è costato circa 209 euro che non è proprio conveniente è vero che le batterie oggi durano parecchio però io ho avuto sempre parecchi problemi con queste batterie al giorno d'oggi io lo uso praticamente fisso sul suo dock verticale della Hang e quindi non lo porto molto spesso in mobilità a volte sta addirittura mesi collegato alla dock in station e è quasi sempre acceso mi si chiederete perché non lo porti in mobilità perché sicuramente il mio core business è cambiato del tempo all'inizio dell'attività mi capitava molto spesso di portare come il MacBook presso i clienti anche per mostrare i lavori come ho detto prima poi diciamo che iniziando delle commesse con periodi molto più lunghi del mese mi è convenuto chiedere alle aziende a cui vado e cui mi fermo a fare con la consulenza una stazione su cui lavorare che tendenzialmente è Windows certo capita ancora di andare con il MacBook ma visto che 8 ore con la batteria non li tiene molto spesso mi devo portare dietro il caricabatterie oggi con il tipo che lavoro che faccio mi trovo molto più comodo ad avere un desktop come il Mac Mini che ha la stessa potenza di un portatile M1 e di avere poi un iPad Pro per potermi poi muovere in mobilità mi sembrerebbe una buona idea dato che poi l'acquisto di entrambe le macchine si aggira con lo stesso esborso che potrei fare per una sola macchina come il MacBook Pro M1 Pro in questi giorni invece poi naturalmente mi sono fatto anche un'altra domanda perché naturalmente l'M1 non ha la possibilità di fare il dual boot con Windows il Parallels che è il software di cui ho una licenza funziona sì su M1 ma la virtualizzazione di Windows ARM non è ancora proprio eccellente e poi soprattutto nessuno ha ancora mai provato un Inventor un SOLIDWORKS con Windows per ARM quindi mi sono detto perché non costruirsi un Mini ITX Windows e facendo un po' di calcoli alla fine tutte e tre i device che andrei a costruirmi e a comprare praticamente arriverai all'acquisto all'esborso che potrei fare con un MacBook Pro M1 Max con il fatto di poter passare da un sistema operativo all'altro senza avere grossi problemi e soprattutto il Mini ITX avrebbe anche una scheda video dedicata apposta per il CAD diciamo per chiudere il discorso e la puntata che la rivoluzione Apple l'ha iniziata quindi dobbiamo decidere se saltare sul carro o farne parte o come consiglio di fare agli nostri ascoltatori attendere ancora qualche anno e aspettare che queste CPU siano completamente compatibili con i software con cui lavoriamo tutti i giorni e che ci portano a casa il pane se qualcosa in questo podcast sta solleticando la vostra curiosità allora non vi resta che iscrivervi al canale lo potete fare da qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast o direttamente sulla piattaforma speaker che ospita questo bordello di idee per i più pigri troverete il link nel feed in descrizione non ho ancora un canale con cui confrontarmi con voi ma se ci sarà lo troverete su telegram ho smesso di caricare gli episodi su youtube per vari problemi con le canzoni sottofondo ho un micro blog che si appoggia su tumblr per il momento va così e quindi potete lasciare lì i vostri commenti anche se naturalmente una recensione su youtube certo non mi schifa che altro dirvi grazie per l'ascolto e ci sentiamo tra un mesetto lo so sarebbe bello prima ma come molto vi ho detto devo incastrare parecchie cose tra lavoro famiglia quindi a tutti lunga vita e prosperità e prosperità